Ninfeo ASMR Ciao, ciao, ciao a tutti voi carissimi ninfetti miei Come state? Come state? Spero che stiate tutti benissimo Benissimo, benissimo Quest'oggi vi propongo un video della serie Prova, prova a non dormire E ho qui un bel po' di trigger super 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 rilassanti Che sono sicura mi aiuteranno a prendere sonno in un batter d'occhio Prima di partire voglio solo mostrarvi due completini che ho ricevuto da Ocean Support azienda con la quale collaboro da molto tempo e si tratta di una collaborazione di tipo gifted quindi non affiliata né sponsorizzata e mi è stato dato un codice anche per questo mese che è un mese di saldi infatti sul sito ci sono saldi fino al 50% e col mio codice si può aggiungere un ulteriore 20% di sconto sui saldi già presenti con spesa minima 60€ e vi mostro i due completini che mi hanno inviato uno è il Serena Hot Pant Set composto da questo bra viola a righine tanto si è insinuato il cartellino qui ma poco male perché lo voglio usare anche per fare qualche trigger ma appunto questo è il bra dal taglio piuttosto particolare e appunto dalla fantasia inedita non ricordo di aver mai visto completi con queste righine è presente l'impottitura interna che garantisce insomma maggiore sostegno e le spalline sono fini e regolabili il pantaloncino è avvitata con una fascia di colore viola e quindi la gamba sempre a righine e sul retro presenta una reggiatura in questa zona che aiuta a dare una bella forma ai glutei è molto molto comodo questo completo e ve lo faccio vedere indossato quindi ecco la clip questo è il Serena Hot Pant indossato e mi piace moltissimo sia la fantasia che la vestibilità che trovo davvero davvero confredevole bello il colore e molto molto adatto per workout estivi durante i quali non si vuole indossare appunto qualcosa di troppo caldo o lungo ma si vuole stare molto fresco bene questo era il primo set e infine vi mostro il secondo set che mi è stato inviato che è il Lo Yara Short Set composto da ombra estremamente semplice e non mi ero accorta questo è proprio morbido di tessuto non è imbuttito e si tratta di un bra che si incrocia sul retro quindi va proprio a incrociarsi sul retro e il pantaloncino tessuto morbidissimo è questo quindi con una vestibilità non aderente come nel caso del Serena ma un po' più morbida come vedete spero si capisca tutti i capi sono sempre in taglia S vi mostro anche lo Yara indossato e quindi ecco il clip questo è lo Yara set indossato molto semplice estremamente confortevole forse il top non è quello che mi rende più giustizia ma è solo per una mia questione del fatto di avere poco seno ecco molto molto carina soprattutto anch'esso fresco adattissimo per questa stagione calda per workout magari anche all'aria aperta eccolo qua e alla set eccolo qua e questo era il secondo completino ringrazio ancora Oceans Apart per questo regalo e ora partiamo con il video e andrei a fare un primo primo trigger con degli old bad cold ovvero i gelatini squishy che a me piacciono tantissimo e trovo che con questi microfoni il loro suono sia ancora più crispio e intenso questo è il quale oppure io ce lo so quello viola ha perso un pochino il suo potere crispy voglio sapere che negli anni tutti i pallini tipo l'estirolo dal quale era composto sono caduti e si sono persi rendendolo un pochino meno tricheroso di quello azzurro che non profuma come l'altro all'inizio però non sono più belli, ha troppo un bel suono e faccio anche unirli insieme quello azzurro l'avevo preso su demo mentre quello viola tantissimi tantissimi anni fa che si chiamava da un sito e si chiamava tipo blipo che ho una maga basso un sacericuroso io ho già andando avanti con il video cerco anche di abbassare il mio tono di voce in modo che diventi sempre più intenso da un orecchio a un orecchio i ceratini sono una di quelle cose che anche dopo tanti anni mi va per amare ancora dei tingles nel momento in cui li ascolto soprattutto un gufio ho sparso tutte le palline di questo sul tavolo è un suono molto molto simile a questo l'ho portato qui non so perché ho voglia di questi suoni per il video di oggi e sono questi cosi il polistirolo o meglio non so se sia esattamente polistirolo penso che si ma sembra il materiale del quale sono fatti quindi quei tubi che si usano in piscina per imparare a nuotare però mi piace questo misto di crispy quando premo questo oggetto poi poi il successivo sticky fingers mi piace proprio tanto questo suono che non 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 il terrore che stiano dell'audio curatore perché sento delle voci della scala anche se non è ancora l'uno non è ancora l'unico mi sto concentrata ma ora, ma ora, ma ora, visto che va un sacco caldo anche se qui al nord dell'estate è che si è arrivata da moltissimo tempo innanzitutto vi faccio un po' di grazie con questa penna che mi piace tanto conci sono qui per te 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 e poi prendo i miei ice globe le ampolline per fare un po' di suoni dell'acqua dell'acqua, dell'acqua e per rinfrascarti avvicinandoti al viso la parola d'ordine è non pensare, non pensare e provare ad abbandonarti e relax purtroppo il mio frigorifero d'estate fa un rumore orribile e spero davvero di riuscire a rimuovere con il noise remover questo fastidioso ronzio troppo troppo non posso cambiarlo anche perchè è un frigo piuttosto nuovo bene, queste sono le ampolline io adoro il suono che fanno, è proprio ipnotico so che non tutti sono fatti le ampolline ma chi le ama, le ama proprio sul serio ricordo che quando facevo le dirette sul canale viola un sacco di persone mi richiedevano le ampolline e ora rinfraschiamo un po' il viso e anche da l'altra parte scusate le interruzioni ma i maledetti sottornati ovviamente maledetti scherzo ma per loro lavoro però dal punto di vista di un smr artist un po' di nervosino un po' di nervosino ma per loro un po' di nervosino un po' di nervosi e quindi l'abbiamo oggi sono infissa con i fingers, con gli sticky fingers mi piacciono le bolle oggi sono tutta viola, tutta panda bene e un altro trigger che ho preso oggi per voi che so che vi piace tanto e anche questo se vogliamo un pochino anticardo è il ventaglio mi piace tantissimo il suono che fa quando si apre ve lo faccio sentire per bene d'orecchio a orecchio non 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 così lentamente per fare in modo che vi passi questa sensazione di caldo di caldo pesante posso che a me il caldo piace però quando è troppo forte a volte è difficile dormire non 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 è molto bello anche questo disegno Buongiorno. Bene, prima di salutarvi voglio farvi un po' di kiss sound che fa tanto che non facciamo che non faccio un po' per la mia assenza, un po' perché davvero da tanto che non vi propongo un po' di kiss sound, quindi 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 proviamo un po'. Buongiorno. 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 e niente ci tenevo solo a ringraziarvi 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 di cuore ma davvero di cuore per tutte le belle parole che mi avete lasciato sotto l'ultimo video di lunedì in particolare in riferimento al problema di salute che sto avendo che riguarda la mia voce e io non vedo l'ora lunedì di vedere l'osteopata per avere questo consulto e capire insomma quale può essere la direzione giusta per risolvere questa anomalia comunque per fortuna vi confermo che insomma non si tratta di nulla di grave è tra virgolette una cosa seria solo perché faccio il lavoro che faccio altrimenti non sarebbe stata assolutamente una situazione preoccupante magari non sarei neanche andata dal medico e avrei aspettato che passasse però appunto facendo la cantante è una situazione che chiaramente per me è un po' più problematica però assolutamente nulla di davvero grave ci mancherebbe altro quindi vi voglio ringraziare perché siete stati dolcissimi e non è una cosa scontata quindi ancora grazie io a questo punto vi do la buonanotte vediamo riesco a prendere il mio buff facciamo un piccolo countdown da 10 a 0 e poi appunto ci salutiamo sperando che in questo lasso di tempo in questa mezz'oretta di video voi vi siate già addormentati quindi quindi perdiamo quel countdown a volte 10 10 10 10 10 10 11 8 8 8 8 8 8 8 8 9 7 7 7 7 sete sei sei cinque cinque quattro 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 tre 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 due 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 uno tutte carezzine uno uno e buonanotte buonanotte nei fatti miei buonanotte buonanotte sogni d'oro buonanotte 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 a tutti voi a tutti voi a tutti voi a te a te buonanotte 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 b ...